Ciao ragazzi! Benvenuti in questo video con noi le sorelle Fatou, Diagne e Aisha Diagne Ecco ragazzi, come avete notato al titolo, presentazione Presentazione perché adesso noi abbiamo aperto questo canale e vogliamo parlare un po' di noi Magari ci divertiamo anche Con... io mi chiamo... innanzitutto mi presento, mi chiamo Fatou Diagne, ho 19 anni Sono una studente Ciao, io mi chiamo Aisha, ve l'abbiamo già detto prima Diagne Però, allora, io ho 8 anni e sono una studente e sono senegalese Ecco, siamo senegalese Beh ragazzi, allora, noi abbiamo aperto questo canale comunque per parlare un po' di noi Ci divertiamo E tutto questo vogliamo condividere con voi Con... con il vostro aiuto magari che vogliamo più iscritti Più like Cioè, insomma, vogliamo divertirci un po' con voi Eh... questo... questo canale l'abbiamo aperto per fare dei video Magari che voi, se voi avete dei opinioni, qualsiasi cosa che avete Delle proposte anche perché sapete, alcune volte noi ci casoliamo, sappiamo più cosa fare Magari nei commenti se ci scrivete qualcosa, alcuni... alcuni argomenti, diciamo E noi lo facciamo Comunque, noi siamo sempre disponibili per voi Qualunque cosa che voi vogliate Insomma, facciamo E... beh Tengo a dire qualcosa Scrivetelo... cioè, come ha detto lei Quello che volete, scrivetelo sotto ai commenti E... anche... faremo dei video, quelli che ci scrivete sotto ai commenti E faremo tutto quello che volete E faremo anche delle scommesse, dei video... tutto quello che volete Eh... esatto Basta scrivercelo sotto e noi lo facciamo subito Però, piano piano, dobbiamo leggere i commenti Poi lo facciamo piano piano Ho detto tutto Non sopporto Vabbè Vabbè, sì, hai detto tutto Quindi io non ho niente da aggiungere Eh, vabbè, dai, ragazzi Comunque Chiediamo comunque un vostro piccolo aiuto Magari più iscritti Siccome è un nuovo canale Vogliamo più iscritti Più... Like Cioè Comunque contiamo su di voi Se avete anche delle proposte, mi raccomando Noi siamo sempre qui Eh... ma... Qualsiasi cosa che voi vogliate E questo canale non siamo solo noi due Magari qua ci siamo solo io e lei Però c'è anche mio fratello, Ramin Lui... È uscito Quattordici anni... no, tre Sì, quattordici Quattordici anni Oh Quattordici, quasi quindici Quattordici Quattordici, quasi quindici Eh... Insomma, cioè, non lo so Però comunque il 21 dicembre fa... Quattordici anni No, fa quattordici anni Ecco, quattordici anni Quattordici anni Quattordici anni Quattordici anni Vabbè Non ti sopporto più Eh... comunque sì Adesso lui è uscito un attimo Però magari voi lo conoscerete anche È molto simpatico Ehm... Cioè, comunque Con noi vi divertirete tanto Eh... Lo conoscerete anche nei video Magari dal nostro primo video Che faremo Lo vedrete E si presenterà pure lui Magari tra un istante Adesso guardiamo se è arrivato Eh... A quanto pare no Perché tra pochi istanti Doveva essere qua a casa Eh... Risci Aspetta Un attimo Vi mando un messaggio Ecco Fatto Comunque ragazzi Dai 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 Mi raccomando Più like Più commenti E più iscritti Eh... Mi raccomando Che con noi Non finisce mai E non vi stancherete mai Non vi annoiate mai Sempre avanti Ci divertiamo Mi divertirete anche voi Ah... Comunque alcune volte Cioè noi vogliamo anche Conoscere voi Voi come voi conoscerete noi Magari nei commenti Privato vi darò Il mio Facebook Snapchat Insomma io sono dappertutto Su tutti i social Ask Facebook Snapchat Instagram Youtube Musichelli Musichelli E... Whatsapp Whatsapp E ovvio dai Chi è che non ce l'ha Chi è che non ha Whatsapp Ragazzi ditemi dai Iscrivetemi Chi è che non ha Whatsapp E do qualche Consiglio I limonati Ovvio I limonati C'è Whatsapp Quasi ci amo Cioè Oh Whatsapp Vabbè Anche se non dovresti Però Eh... Ragazzi Io Aspetta Provo a girare Un attimo Sotto le camera Così Guarda Ma Ah Ma ecco Così era meglio Vabbè Comunque avete visto Ho fatto Queste trecce Ieri Ah No È arrivato? No No Ebbè Ah Anche il mio Teddy Si vuole presentare Ciao Io mi chiamo Teddy Ciao Io mi chiamo Teddy E ho Due anni Vabbè Conoscete Teddy Vabbè Questo qua È mio Teddy Io Ce l'ho da due anni È un regalo Da mia mamma Siccome io amo Gli orsacchiotti Come si dice Orsacchiotti Ecco Orsacchiotti Gli orsacchiotti Mi l'ho apprezzato